Il Regimento Corazzieri è posto sotto l'alta autorità del Presidente della Repubblica. Adesso, con un fatto di attività, conti di scorta riguarda il dolore al campo dello Stato, nonché i servizi di sicurezza e di rappresentanza all'interno del Palazzo del Turinano. Quale unità speciale dell'Ambria di Caracolini, con i servizi militari e alla modella dell'ordine e della sicurezza. Le origini dei Corazzieri risalvano a 1557. All'altro anno fu loro abitata la patria del porto del Ducca, che è un grande più merito di Salonia. Il bandesimo del luogo del Braccio, avvenuto il 10 apostolo a 1557 e a San Vittino, costituisce anche la data di cui si celebra la costituzione dei Corazzieri. Nei secoli seguenti, tutti i sovrani ammarrano in vita l'unità, finché nel 1868 la patria che lo guadrà nell'arma dei Caracolini, quale unità speciale. Nel 2011 il campo dello Stato ha insinito, costentato del reggimento Corazzieri, della drogge d'oro al medico della... Grazie.